Quali film guardare in tv questa settimana? Vi dico subito cosa sceglieremo noi di Cinematography Film is Now! Luc Besson, il regista francese di Léon, che ora è in sala con Valerian e la città dei mille pianeti, ha diretto nel 2013 Cose Nostre ma la vita, una black comedy che ha per protagonista l'inossidabile Robert De Niro, con Michelle Pfeiffer e Tommy Lee Jones, in onda domenica 15 su Rai Movie alle 21.10. Darai un buon esempio spiando i tuoi amici della mafia? Non siamo più a Brooklyn. Non c'è posto più lontano da Brooklyn di questa topaia. Sono a stufa della protezione testimoni. Benvenuto in Francia, cerca di integrarti, sono stanco di trovarti un posto nuovo ogni 90 giorni. Lunedì 16 su Rai 4 alle 21 c'è The Maze Runner, il labirinto, film di fantascienza tratto da un romanzo e ambientato in un futuro distopico. È la storia di un ragazzo che un giorno si risveglia in un posto misterioso e pericoloso chiamato Lara Dura. Primo giorno, è ora di alzarsi. Pet Finder, la leggenda del guerriero vichingo, è la vincente film d'azione che possiamo vedere a martedì 17, sempre su Rai 4 alle 21. Qui Carl Urban è Ghost, il combattente che tra razzie e tempeste sta cercando il suo posto nel nuovo mondo. Ritroviamo Tommy Lee Jones anche mercoledì 18, in un film stranamente mai uscito in sala, i misteri della distribuzione, e che si intitola In The Electric Mist, nell'occhio del ciclone. È un thriller coinvolgente in cui lui è il protagonista, un detective che è sulle tracce di un omicida che uccide le prostitute della Louisiana, ma l'indagine prende una piega inaspettata, su Rai Movie alle 21.10. Giovedì 19 cambiamo totalmente genere con Billy Elliot su Iris alle 21. Ispirato a una storia vera, è la storia del sogno dell'undicenne Billy. Nato per essere un ballerino, aspira a farne la sua vita in un contesto sociale, familiare e storico molto complicato. Un'opera che riempie il cuore, ricordando l'importanza di alimentare sempre le proprie ambizioni, nutrendo il proprio talento. Kim Rossi Stewart è un bravissimo attore italiano e in Tommaso si è prestato persino alla regia, raccontando le complicanze dei rapporti fra i due sessi. Accompagnato da Jasmine Trinca e Cristiana Capotondi, è in onda venerdì 20 su Rai 3 alle 21.15. Una tortura? Sto tormento. Io sto sempre lì a criticarla. E questa cosa dei denti storti, no? Io non so proprio che aspetto a lasciare chiara. Ma che stiamo a fare insieme? Federica! Ciao! Ma tu sei fidanzata? No, tu? L'ineguagliabile Michael Douglas è il protagonista di un thriller in cui una caccia al muflone nel deserto si trasforma in qualcosa di molto di più, in The Reach, caccia all'uomo, appunto. Sabato 21 su Rai 4 alle 21.05. Ho un lavoro per te, un uomo vuole andare a caccia nel deserto. Un po' presto di questa stagione, no? Ha ottenuto un permesso speciale. La guida migliore dello Stato. Sì, me lo immagino. Muoviamoci. Lo sparo del fucile spaventa la selvaggine. Sono già spaventati, è per questo che vengono cacciati. Vedi niente? Come sempre qui sotto trovate il link per dare un'occhiata a tutte le alternative. E io vi auguro buona visione. Alla prossima. Ciao!